Nessuno. Gabby che spende 100 euro per averla superata. Ciao ragazzi di Gabby e bentornati su MissileDudeRPG. Sono nuovamente qui a sconfiggere Demini in tutta calma. Guardate qua i loro dannati portali. Li sto massacrando. Siamo a livello 379 e credo che il boss finale si trova a livello 1000. Forse in questo episodio dovrò comprare qualcosa di meglio. Ok. Mandiamo qualche. Ecco qui. Eccoli. Eccoli. Uuuuh. Per fortuna era un cavolo di boss. Allora intanto vediamo se possiamo potenziare. Ecco mi metto a potenziare un po' il soldatino che abbiamo qua. Oh. Le torrette. Perché queste fanno molto danno e ci danno un supporto. Il drone. Il nostro nuovo marine che abbiamo appena preso. Potenziamoli tutti a scoppio. Il problema è che per sconfiggere anche i dungeon poi mi sa che sarà un casino. Un attimino che risetto qua le varie fabbriche che ci danno un botto di soldi. Allora voglio arrivare al tipo almeno al 500 e vediamo se iniziamo a fare le cose bene. Cioè io vorrei evitare di comprare. Vorrei evitare di spendere in questo cavolo di gioco soldi veri. Però secondo me lui ti costringe dopo un po'. E allora ci penserò io per voi. Tanto sono bello potente. Però a livello 1000 non ci arrivo. Ho bisogno di più potenza. Cioè vedete i boss stanno diventando troppo forti. Questi boss sono troppo potenti. Non c'è verso di farli fuori. Cioè guardate sto usando tutta la mia potenza ma nada. Devo per forza spendere qui e mandargli addosso i miei cosi ballerini altrimenti niente. Non servite a un cavolo potenziare questi questi. Sto spammando tutti i miei soldini i miei dindi ma nada. E va bene. L'avete voluto voi. L'avete voluto voi. Ah più veloce uccido il boss finale diabolo. Più reward mi danno. Io ci ho messo 15 minuti. Allora è giunto il momento. Se voglio raggiungere il boss finale. Devo essere più forte. Va bene mi avete convinto. Andiamo nello store ragazzi. 99 dollari. Tre ceste assurde. Non hai più le pubblicità. Hai una tuta assurda. Io non so. Io non so ragazzi. 89 euro e 99. Oh non ho mai speso in giochi come questo. Ma è giunto il momento. Sto registrando sta cosa che se la perdo mi ammazzo. Sono spotenziato sono assurdo. Guardami. Guardami come li disintegro. Ho tre ceste leggendari le apro. Vediamo cosa mi danno. Porco schifo mi hanno dato. L'apriamo le tutte. Voglio tutte le armi leggendarie. Ora mi prendo tutte le armi. Guarda che roba. Questo distrugge tutto quello che vede. Ti fa usare meno upgrade. Guarda pure la motosega lanciabile. Apriamo anche l'ultima cassa leggendaria. Che ci dà sempre roba assurda. L'anien. Mi hanno dato l'anien. Basta. Lo vado a mettere. Lo vado a mettere. Allora sono armi leggendarie. Allora equipaggiamoci l'anien. Equipaggiamoci questo che ci fa spendere meno. Il teschio lo metto via. E il teschio me lo tengo. Perché il teschio è veramente forte quello che ho trovato. Ora abbiamo un botto di materiali. Ora possiamo potenziarci. Ragazzi mi prendo altri... Altri... Mi sto prendendo altri soldati. Adesso li inizio a prendere. Il mortaio ho preso. Ora potenziamoci i missili. Facciamo degli upgrade. Facciamo degli upgrade ragazzi. Cioè guardami. Io ho speso 99 euro per questa roba. Ma i nemici sono ancora fortissimi eh. Vai vai con questi. Oh meno male. Posso usare del gas per creare un artefatto. Proviamo a creare un artefatto ragazzi. Ho messo delle cose dentro la vaschetta con la papera gialla. Mi hanno dato la maschera di Fadei. Ma che c'entra? E posso anche farci upgrade. Creniamo un ultimo artefatto. Va. La bambola voodoo. La potenzio ragazzi. Vai ho potenziato un po' i miei artefatti che ho creato. Un attimo che promuovo anche i miei soldati. Facciamo diventare un caporale. Assurdo. Ora devo concentrarmi su upgradeare i miei mostriciattoli. Adesso quello che devo fare è potenziare il lanciarazzi. Perché ho uno fortissimo. Praticamente questo lanciarazzi spara. Sette colpi ogni due secondi. Quindi è una roba assurda. Solo i boss vedo che faccio fatica ancora. Mamma mia stiamo andando in nuove zone eh. Queste sono le nuove zone. Intanto apro un'altra leggendaria perché vedo che me le stanno dando a scoppio. Vai così ho il buco nero. Ho il buco nero signori. Facciamo una cosa. Mettiamo lo speed. Ho messo lo speed. Ora va super veloce. Io posso stare qua. Io posso stare seduto. I boss sono assurdi. Quindi è meglio che li ammazzi in questo modo. Sono veramente assurdi. Ci arriviamo allo stage mille. Entro oggi mi sa. Ci arriviamo. Stiamo cavalcando tutto. Cos'è sta roba? Cos'è? Ora ho anche 200 di questi. Posso prendermi... Che ne so. Più 100 materiali per 3 ore. C'è anche una bone crate. La bone crate che cavolo è? Andiamo lì un kamikaze. Vai. Morto. Bisogna far così. Bisogna far così. Bisogna usare un po' i trucchi a volte contro i boss. E con tutti questi soldi mi vado a potenziare ancora il lanciarazzi. Deve essere il livello infinito. Steampack duration più 10. Vai vai vai. Si potenzia. Si potenzia qua. Guarda quanti danni! Morite insetti! Morite! 448. 449. 450. Ormai easy, easy, easy. Prendo un po' di uranio. Vai 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 vai. Non ho usato niente! Non ho usato niente per sconfiggerlo. Siamo troppo lumber. Troppo lumber, signori. Siamo incredibili assurdi Pazzurdi Guarda che è arrivato C'è un boss che mi sta aiutando Mi sta uccidendo tutti Mi sta facendo passare 30 stage Guardalo Mi sta ammazzando tutti Tutto lui ha fatto Siamo a livello 500 Siamo praticamente a metà Di quando eravamo partiti E io non li vedo quasi nemici Però stanno diventando molto potenti Mettiamo il penetration module Che rende molto forte Il mio rocket Continuiamo così Posso comprare delle altre cose Certo che per 99 dollari Dovevano darmi anche Dovano pagarmi loro Ho preso un'altra persona Ho preso pure un missile Sto creando un sacco Ho un sacco di amici che mi stanno dando una mano Guardate la mappa Guardate la mappa Oh mamma mia Che è il più forte questo gioco Tutti gli obiettivi che ho completato Senza neanche sapere che esistessero Perché ho sfammato roba Vai vai Prendiamo un po' di questo Un po' di quello Solo Ho una volta visto Michael Jackson Che entrava in un negozio Con tutti i suoi soldi Prendo questo 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 Tutte robe da un milione all'una Questo 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 sono io adesso Che ho pagato 99 dollari In questo gioco Prendo questo 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 Sfondo Questo Prendo questo missile Adesso gli faccio un upgrade Fagli un upgrade Vai così Ok ragazzi Abbiamo fatto tanti progressi Credo che sia giunto il momento Di andare in un dungeon Ora Penso di essere abbastanza forte Per fare tutto questo Proviamo ad andare in un dungeon Vediamo se adesso posso Distruggere Ok Una volta era impossibile Da battere sto coso Ma adesso siamo fortissimi Beh Aspetta Forse Non proprio Wait Ci ha ucciso No Per un pelo Per un pelo No Devo tornarci Torna nel dungeon No L'abbiamo vinto L'abbiamo catturato L'abbiamo catturato Siamo morti Ma l'abbiamo ucciso Quindi dovrebbe avermi dato delle Mi ha dato la random crate Ok Buono Buono Mi ha dato qualche cosa Dobbiamo potenziare ancora di più Lanciarazzi Così li posso mettere altre cose Adesso gli aumento il danno O il gas Il gas è buono Perché gli fa danno Con il tempo Quindi Il gas lo abbiamo a più 4 Però dopo voglio aumentare il danno Perché ci serve Torna Allora Dammi la ferie Io posso comprare qualsiasi cosa Che ha pubblicità Pum Io la clicco Non mi devo guardare la pubblicità Guarda qua ancora Laser lock boost Mi danno un boost Io prendo tutto Io prendo tutto Io sto trovando della roba Che voi non avete idea Io sto trovando della roba Signori Che voi non avete idea I boss me li mangio Siamo nella zona oscura Nuova zona è questa Facciamogli un upgrade A livello 3 250 Vai Sto upgradando i miei missili Perché quelli sono assurdi Se upgradati Uuuu Uuuu Con gli upgrade Uuuu Uuuu Con gli upgrade Uuuu 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 Dammi qua Dammi qua i materiali Dammi qua Vai 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 Lo uccidiamo Lo uccidiamo Lo uccidiamo Easy Boom Ora batti boss Senza neanche usare tanto I miei aiutanti Ok Ok Ora che abbiamo preso abbastanza Posso prendere un Rambo Ho preso Rambo Guardalo Guardalo Adesso È la fine Tornerò nel dungeon Dammi qua i materiali Torniamo nel dungeon E andiamo a spaccare Il sedere a questo Guarda Guardalo 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 Attacco aereo Vediamo se posso usare I miei Barabari No Me li sta uccidendo tutti È assurdo È assurdo Me li sta uccidendo tutti No è troppo forte Raga Mi ha ucciso tutti Ora mangia la me È troppo forte No È troppo Era troppo forte Quel boss Velocissimo Ok Nuova zona Di nuovo L'abbiamo raggiunta Stiamo andando nella zona Di boss Livello 600 Stiamo raggiungendo Il boss finale Lo raggiungeremo Ragazzi Lo raggiungeremo Non ho abbastanza Pietre rosse Quindi per forza Devo fare fuori Un boss nel dungeon Allora Io mi sono potenziato Un botto Veramente un botto Oh Adesso arrivano questi Cosa Arrivano pure questi Ma li ho uccisi Li ho uccisi però C'è Il boss di questi livelli Sono quelli assurdi Ora Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ma io gli spammo addosso Diventano sempre più veloci Uh L'abbiamo ucciso Mamma mia Proviamo a tornare da questo Ora spammo Ora spammo Dobbiamo spammare questi Dobbiamo spammare questi Dobbiamo spammare L'ho ucciso Mi ha dato un sacco di materiali Uh È tornato il boss È tornato il cosa Che mi fa superare Più stage Meno male Meno male Trenta stage Trenta stage Gratuiti Super easy Super Iper Iper Mega Stonks È tornato la papera gialla Wait Che mi prendo I booster Però Forse È un po' un problema Oh Adesso tutti sono assurdi Tutti sono assurdi No Sono troppo forti C'è superare Trenta stage Non mi ha fatto bene Alla salute Non mi sta facendo bene Alla salute Sono troppo forti Guardate Ho messo praticamente Tutti i potenziamenti Vai Ho trovato un'altra cosa Che mi farà superare Trenta stage Grazie Meglio che già mi potenzio Non è che sia troppo tardi Livello 700 Io non ho Io ho paura Di quello che troverò A breve Livello 700 Oh Mamma mia Mamma mia Anche i portali Durano un'ora Qui Questa cosa ho paura Ci sono tipo le piramidi Massoniche Che mi attaccano Sono dei nuovi nemici Quando il cosmo Dei fantagenitori Usciti male Basta Adesso io Io mi sono rotto Adesso spammo Spammo superattacchi Adesso vado un attimo Al dungeon Scusa Abbiamo Siamo mezz'ora Che stiamo uccidendo Ora cosa sarà Questo dannato boss Niente sarà Vero Ho butto Tutti i cosi Oh Ora Ora fa schifo Vedete Prima era immortale Ora È abbastanza schifoso Sì L'ho ucciso E mi sono beccato tutto Prendi tutto Let's go Avremo una nuova chest Chicken nuggets For the win I nemici Sono molto più forti Devo potenziarmi Qualche missile Tipo Questo che l'abbiamo A livello 4 Dovrebbe arrivare A livello 5 Ma non mi fa Fare l'upgrade No Mi hanno ridato La super fiere Che mi fa superare 30 stage Posto A posto Non voglio più Sentir parlare Di nessuno Ora attivo Tutti i miei poteri Tutti Non si vedrà niente Nello schermo Niente Sto usando Tutto Quello che ho Tutto Compro anche Un carro armato Mi sembra Molto fattibile Questa volta Credo che L'abbiamo vinto Easy Credo che abbiamo Vinto molto easy Un dungeon Signori Credo che abbiamo Stravinto A posto Inizio a battere i boss Senza neanche usare Niente Adesso Ok 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 Mi sta piacendo Mi sta piacendo Ora vogliamo Vedere un altro dungeon Vediamo quanto ci mettiamo Così Prima che sia Troppo tardi Ok L'ho ucciso L'ho ucciso E posso Levappare Dei building Prendiamo un po' Tutti questi punti Apriamo una nuova cassa Che magari mi danno Nuovi missili Ok Sono il più forte Del gioco Ok Sono il più forte Ah Ho di nuovo preso Quella cosa che mi toglie 30 stage Basta Arriviamo proprio Easy peasy Lemon squeezy Ragazzi è l'ultimo È arrivato Oh mamma mia Lo posso devastare Quanto forte è Si sta avvicinando Mamma mia È immortale Lentamente Si avvicina Porco schitto Porco schitto È immortale Devo usare tutte le mie armi Tutte ora Tutte ora Mamma mia No 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 Non posso neanche Upgridarmi il missile No raga Credo che alla fine Metà vita Gli ho tolto Sta usando tutti i suoi portali Per uccidermi I miei uomini Guarda quanto ci mette Usali tutti Usali tutti Mi sta distruggendo Sta diventando Gli ho tolto un sacco di vita No Non sono ancora morto Non sono ancora morto Non sono ancora morto Vai Ho l'energetica Maledetto diavolo Ti spacco Uso tutto Uso Uso tutto Un minuto e mi batte Un minuto e mi batte 50 secondi 50 secondi Lo batterò in 50 secondi Ma io ce la farò 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 Si Wow Guarda quanta roba ho preso Guarda quanta roba ho preso Quanta roba ho preso Quanta roba ho preso Cosa sono ste casse Il feto Il feto del demone I suoi cornel I suoi cornel Gli ho preso tutto Gli ho rubato tutto L'occhio Gli ho rubato un sacco di chest Ma porca truta Abbiamo preso tutto Ormai siamo immortali Ce l'abbiamo fatta Una pacca sulla spalla Signori Ma possiamo andare avanti Praticamente all'infinito Addirittura potremmo battere Un secondo diablo Se ce la facciamo Tanto Ormai Come ho detto Basta che andiamo qua E battiamo anche questo Che è il secondo diablo Questo è il diablo Ancora più forte Questo diablo Ancora più forte Mi sa Mi sa che hanno trovato Questo è quello tipo Finale Questo non lo posso battere Oh cavolo Cioè per questo Waiting Waiting Vedi Due minuti Lui ci mette due minuti Ad ucciderti Io nemmeno se uso Tutti i miei super poteri Ce la faccio Ma Meglio Mi ha già ucciso Mi ha già ucciso Mi ha già ucciso Beh signori La sapete una cosa Io penso di concludere Questo video qua Siamo riusciti Nel nostro obiettivo Sono contento E niente Si potrebbe andare Veramente avanti All'infinito Magari ci mollerò Un altro episodio Se volete Che provo Andare a livello 1500 2000 Ma adesso veramente I nemici si fanno Molto molto forti Secondo me qua Sta il tutto Nel potenziarti Le varie unità E prenderne anche di nuove Cioè tu puoi arrivare A prenderti di tutte Di più A farle diventare Proprio incredibili Quindi Penso che è quello Che farò Se vado avanti Con questo gioco Però dai Sono contento Di essere arrivato Fino a qui Ormai ci sono anche Portali di nuovi colori Ma non li vedremo Quest'oggi Vi ringrazio per la visione Lasciate un bel like Per supportare la battaglia E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi